Ecco un po' di diffusori acustici, gocce, on-wall, incassi, pronti per la partenza e verranno spediti oggi. Circa il 50% di questi pacchi verranno spediti in Italia e l'altro 50% in Germania. Andiamo in produzione e vediamo cosa si produce oggi. Ecco qua una bella tavolata di Sir22V, un diffusore ad incasso marino, quindi lo utilizzo in esterno e anche frontemare. È un doppio altoparlante, diametro 13 cm e sono montati anche i suoi trasformatori toroidali, con una potenza massima di 50 W RMS per 2. Questo è il frontale e ovviamente qui manca la cassaforma e anche l'estetica. Eccole qua le mitiche SICK 112. Sono mitiche perché questo modello è uno tra i più venduti in Garvan. È un diffusore ad incasso cartongesso, diametro 13 cm e normalmente si utilizza per fare sistemi multiroom, quindi la musica in tutta la casa. Bagno, cucina, possono essere usati un po' in tutti gli ambienti diciamo interni. E qui abbiamo 5 soundbar in fase di montaggio. Quindi il diffusore acustico che si monta sotto il televisore, normalmente sotto, alcuni lo montano anche sopra. 4 sono stereofoniche, quindi hanno il canale destro e sinistro e una ha anche il canale centrale. Qui abbiamo il componente interno del diffusore acustico Bookshelf SB112. E questi sono i nuovissimi diffusori della serie celeste. Sono diffusori sospesi, adesso qui li vediamo al contrario. È un diffusore acustico che suona dall'alto verso il basso e inoltre hanno come optional una strip led che viene montata qui sotto questa griglia e quindi può essere anche usato come luce ambientale. Di solito questa tipologia di diffusori acustici si utilizza per sonorizzare locali che possono essere ristoranti, pizzerie o anche negozi. Ancora in fase di assemblaggio qui abbiamo incassi e on wall. Queste sono le vaschette porta terminali che andranno installate nelle soundbar. Qui siamo ancora alle fasi iniziali dove deve essere ancora stagnato il cavo e fissato il connettore. Incredibile ma vero, ma per fare queste cose ci sono dietro delle persone e anche molto capaci. Dallo stabilimento di produzione audio Garvan qui è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Grazie, a presto!